Ci stanno alcune cose che io mi prendo la parte che fanno il sinistro di quella seconda Sargini dei Sensei, sono quattordici anni che è andato a vedere Ma non ma voglio speriamo di ora che sto a scollermare la pari con la gira Io ma voglio vedere come se ma voglio tenere la misiera che mi fanno bene Vabbè tu mi fanno venire il caponito voi Ho passato due ore spedito in maniera ossessuale Ma lo sento qui Che Cristo Dio Ma cosa che c'è la piccola cosa che scanna Ma la faccio a cercare la mia mia lingua di finora Ma la faccio a cercare la mia lingua di finora Ma la faccio a cercare la mia lingua di finora Ma la faccio a cercare la mia lingua di finora Ma la faccio a cercare la mia lingua di finora Ma la faccio a cercare la mia lingua di finora Ma la faccio a cercare la mia lingua di finora Ma la faccio a cercare la mia lingua di finora Ma la faccio a cercare la mia lingua di finora Ma la faccio a cercare la mia lingua di finora Grazie a tutti. Grazie a tutti.